Giovedì 28 settembre si è tenuto a Palazzo Cisterna l'evento di lancio del progetto europeo UpVer, Apprendere per produrre verde, di cui la città metropolitana è capofila. Durante la mattinata sono stati sottoscritti due protocolli d'intesa fra scuole, partner e associazioni di categoria per avviare concretamente il lavoro di concerto che impegnerà attivamente mondo della scuola e mondo del lavoro. UpVer è uno strumento finanziato dal programma di cooperazione trasfrontaliera tra Francia e Italia, Interreg, Alcotra. È pensato per aumentare l'offerta educativa e formativa sul tema della green economy attraverso lo sviluppo di una rete di collaborazione tra scuole, aziende e istituzioni dei territori italiani e francesi. Obiettivo, superare la difficoltà della scuola e della formazione professionale nell'individuazione di conoscenze e competenze richieste dal mondo del lavoro green. Al progetto hanno aderito per il versante italiano il comune di Pinerolo e il consorzio per la formazione, l'innovazione e la qualità sempre di Pinerolo. Per il versante francese il GIP FIPAN, un'agenzia pubblica costituita da esperti in formazione con sede Anizia. È un progetto volto a cambiare la mentalità delle nuove generazioni perché bisogna capire che la sostenibilità ambientale deve essere affrontata in tutte le fasi della vita di ciascuno e quindi noi ci proponiamo di favorire l'incontro tra i giovani in formazione e nella fase di apprendimento e le imprese che fanno green economy sul territorio. Green economy significa nuovo lavoro, soprattutto nuovi modelli di lavoro. Il nostro paese è un paese che ha dimostrato come i green jobs, cioè i lavori verdi, stiano aumentando in modo considerevole e soprattutto sia lavoro stabile e duraturo. Oggi certamente vediamo dei numeri interessanti e anche nella regione Piemonte si sta vedendo appunto uno sviluppo che sottolinea la forza di questo lavoro.